Vai Luca, ti lascio. Grazie, grazie Matteo. Ciao a tutti, mi chiamo Luca come avete potuto vedere dalle slide per circa, non so, un quarto d'ora. Io voglio prima di tutto ringraziare Matteo e Marco che mi hanno invitato qui. Matteo parlava della voglia di stare insieme anche fisicamente in presenza e posso solo per confermare perché questa per me personalmente è la prima volta che torno a parlare come speaker davanti a persone e non dietro uno schermo ed è veramente bellissimo, spero che possiamo continuare così e organizzare tanti eventi come VotoMotion, come questi appuntamenti di OmaJS. Spendo due parole per raccontarvi chi sono e perché siete qui a sentirmi blaterare su il debito tecnico, spoiler. Mi chiamo Luca e la mia esperienza professionale è divisa in due grandi blocchi. Io sono stato co-founder e CTO di OneDario, una start-up in Italia per circa 8-9 anni e poi successivamente head of engineering di Translated.com, un'azienda più grande, sempre romana, che lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Dico sono stato perché non sono più nell'uno o nell'altro, ma adesso se vogliamo sono uno scrittore perché full-time lavoro a una newsletter che si chiama Refactoring e che trovate a Refactoring su Refactoring.club. È una newsletter letta da circa 20.000 persone, da founder, ingegneri, manager, tutte le settimane. L'obiettivo di Refactoring è quello di aiutare le persone a costruire team di sviluppo migliori, lavorare meglio insieme, diventare dei manager e dei leader migliori. Non so se qualcuno di voi la conosce. Grande. Ah, molto contento. Molto contento per chi la conosce. Per chi non la conosce, se poi volete darci un'occhiata, mi fa molto piacere. L'argomento di oggi, passiamo alle dolenti note, è quello del debito tecnico, che è un argomento molto noto, come diceva Matteo, a tutti, tecnici e non tecnici. È un argomento su cui ho scritto sulla newsletter diverse volte, l'ho scelto perché è uno di quelli che appassiona sempre e divide anche le persone. E quindi, secondo me, è interessante parlarne insieme e poi raccogliere anche quelle che sono le vostre esperienze, domande, impressioni. L'agenda di oggi è divisa in quattro punti, quindi proverò a partire con delle definizioni che sembrano semplici e di base, quando in realtà, secondo me, non è scontato che cos'è e cosa chiamiamo debito tecnico. Quindi, come prevenirlo, se siamo tra quei fortunati che non ce l'hanno oppure ce l'hanno poco e quindi vogliono mantenere una situazione di sanità mentale. Oppure, se siete, secondo me, tra la maggioranza che dovete più ripagarlo, cercare di diminuirlo nel vostro prodotto, nella vostra azienda. E, ultimo ma non ultimo, come capire che cos'è importante e cosa no, cosa fare un assessment delle varie parti di debito che si hanno all'interno di un prodotto o di una code base. Quindi, cominciamo con le basi. Che cos'è il debito tecnico? E la prima cosa che voglio dire è che, innanzitutto, il debito tecnico, secondo me, è una delle migliori metafore che abbiamo in ambito tech. Che cos'è una buona metafora? È qualcosa che consente di spiegare un concetto usandone un altro in un modo che risponde alla realtà ed espande un po' la platea di persone che capiscono di cosa stiamo parlando. Quindi, debito tecnico, se non ci fosse questa metafora, sarebbe una questione prettamente tecnologica. Invece così siamo in grado di parlarne con tante persone che magari non sono tecnici, magari sono manager, sono stakeholder. e quindi è un concetto che si è diffuso rapidamente, secondo me, perché è molto facile da capire. Quindi, il paragone con qualcosa che cresce, si accumula, su cui paghiamo un interesse che ci rallenta. Ed è utile, in definitiva, agli ingegneri. E non solo perché consente in sede di negoziazione, di stime, deadline, di passare dei migliori concetti. Se vogliamo capire però che cos'è effettivamente e da cosa deriva, la cosa che possiamo fare per partire è cercare su Google e scopriamo che ci sta un po' un consenso intorno a quello che le persone intendono come debito tecnico, o comunque almeno la prima pagina di Google. E si trovano sempre risultati che parlano di scelte di priorizzazione in cui si sceglie di magari deliverare qualcosa più velocemente a scapito di qualità, ok? Quindi magari speed delivery over perfect code o clean code, quick and dirty decisions, ok? Quindi tutte scelte che vanno a scapito di quello che sarebbero le best practices. Magari non scrivo i test, non scrivo documentazione, rinuncio a applicare il design pattern X o Y per andare più veloce, ok? Tuttavia se questa fosse l'unica definizione, l'unica causa del debito tecnico, mi viene da pensare che se fossimo un team di sviluppo diligente che fa le cose a modo, che scrive i test, la documentazione, che ci tiene a creare le giuste astrazioni, a fare le cose per bene, il debito tecnico non serve un problema, almeno per questi team, giusto? Non si dovrebbe creare o se ne dovrebbe creare poco in un modo che rimanga sotto controllo. Ora, non so voi, ma io di team molto in gamba ne conosco, ma di team in cui il debito tecnico non è un problema, non ne ho mai conosciuti. E anche nei migliori team, il debito tecnico non solo si forma, ma cresce e cresce, a meno che non si hanno dei processi e dei metodi in gioco per tenerlo sotto controllo o ridurlo. E quindi, secondo me, ci deve essere dell'altro oltre questo. E qui entra in gioco un video molto bello che ho scoperto circa un anno fa di Ward Cunningham, che è il creatore di questa metafora, nel senso è il primo che l'ha usata in un contesto professionale ed è anche uno degli eroi dell'Agile, uno dei firmatari del manifesto, quindi uno che ne sa, diciamo. E lui parla del debito tecnico, citandoli in un contesto, e io ho preso un virgolettato che vi vorrei leggere perché secondo me è molto interessante. Ward dice, If we fail to make the program aligned with what we understand to be the proper way to think about our objects, then we are going to continuously stumble into disagreement, and that would slow us down like paying interest on a loan. Quindi l'ultima parte, paying interest on a loan, è il primo momento in cui qualcuno compara l'idea di essere rallentati a livello tecnologico all'idea di un debito. Però quello che è interessante per me è il contesto in cui lui menziona questo. Lui non parla di sviluppo quick and dirty, sbagliato, non facciamo i test. Lui parla di disagreement. Lui parla di un programma che noi abbiamo sviluppato che non è allineato con quello che è il nostro understanding, la nostra comprensione della realtà o del business. Quindi non abbiamo capito qualche cosa o c'è un disagreement su come è fatta la realtà, e abbiamo sviluppato un programma che non la rappresenta. Ok? Quindi che cosa succede? Che poi quando andiamo a modificare qualcosa secondo la necessità del business o del prodotto, le astrazioni che abbiamo fatto non erano quelle giuste e quindi diventano, invece di essere un asset, diventano un difetto, una liability e ci rallentano perché non era quello che andava fatto veramente. Walt Cunningham dice anche che sì, è vero che in altre interviste c'è debito tecnico che si crea consapevolmente e che si crea perché si fanno semplicemente le cose male. Però il debito tecnico grande, quello che poi attanaglia le aziende, è quello dovuto al cambiamento o al designer che non rispecchia quello che deve fare il prodotto. E quindi ho cercato di pensare a quali sono le situazioni in cui può avvenire questo disagreement, come lui lo chiama, e secondo me sono fondamentalmente due. La prima è quando il design che noi abbiamo realizzato del prodotto a livello tecnologico è sbagliato dall'inizio in realtà. Abbiamo raccolto i requisiti, abbiamo parlato con i vari stakeholder e le astrazioni che abbiamo creato in realtà già erano sbagliate rispetto alla realtà che dovevamo modellare. Ora, sbagliato non significa necessariamente che le cose non funzionano. Magari funzionano secondo i requisiti, ma sotto il cofano c'è una strazione, una rappresentazione che non è quella giusta, per cui appena si cambia qualcosa ecco là che casca l'asino, come si diceva, ma ci metti il triplo del tempo perché non avevi veramente capito. C'è anche un'altra strada, un'altra opzione che è il fatto che magari le cose erano giuste all'inizio, ma poi il prodotto o il business cambia velocemente e quello che era giusto oggi non è più giusto domani, ok? E ci sono situazioni in cui questo è endemico, pensiamo alle start-up, magari early stage, piccole aziende che iterano velocemente, che per definizione, per quanto noi ci sforziamo a pensare a come fare le cose, quella che è un'ipotesi oggi cambia domani e si crea debito tecnico in maniera che apparentemente sembra impossibile da prevenire, no? E quindi se questi sono i due scenari, proviamo a pensare a come prevenire effettivamente che si crei questo disagreement, questo disallineamento e che si crei il debito tecnico. Allora, se ci troviamo nella prima situazione, diciamo che la strada principale non ci sono santi a spendere più tempo sul design, che non è necessariamente più tempo fisico. Il design di una tecnologia può essere sbagliato non soltanto perché non ci abbiamo speso abbastanza tempo, ma magari perché non abbiamo parlato con tutte le persone giuste, quelle che avevano, che conoscevano i requisiti e quello che doveva fare la funzionalità o il prodotto, ok? E magari dopo che abbiamo rilasciato scopriamo qualcosa che avremmo potuto scoprire prima, o magari non abbiamo fatto abbastanza ricerca con gli utenti, abbiamo dato per scontato determinate cose, magari per rilasciare più velocemente e pensavo andasse bene così. Ora, chiaramente il design fatto bene non ci protegge, e io parlo di design qui in senso lato, non soltanto la grafica, parlo del design di una funzionalità, non ci protegge da tutto, ok? Si tratta di trovare uno sweet spot, perché evidentemente se c'è troppo poco sforzo di design, rischiamo di creare debito tecnico al giorno zero, ma per quanto noi possiamo passare magari sei mesi a ragionare sulla cosa migliore possibile, questo non ci protegge dal fatto che in futuro possano arrivare cambiamenti, le ipotesi cambiano, e abbiamo anche perso tempo, ok? Quindi questo è un po' il caso del design sbagliato dall'inizio. Nel caso invece in cui la realtà cambia velocemente, probabilmente il modo migliore di ragionare è cambiare un po' il nostro approccio alla creazione del codice, alla creazione della tecnologia, sapendo che quello che stiamo creando oggi ha un tasso di vita, una durata della propria vita più basso di quello che pensiamo, ed è probabile che dovrà essere organizzato, rifatto in passato. Quindi è più saggio fare magari un investimento più piccolo inizialmente a livello tecnologico, non sforzandoci su tante astrazioni, oppure anche utilizzando strumenti low code o che ci consentono di spendere meno tempo sul codice, verificare delle ipotesi e poi tornare indietro quando abbiamo imparato e mettere quell'apprendimento all'interno del codice per creare l'astrazione che è quella giusta. Ora, io sono stato in una startup per tantissimi anni e lo so che dire questa cosa sembra un po' aspirational, sembra qualcosa che dice eh sì certo, però chi è che torna indietro a rifattorizzare le cose dopo che sono in produzione? È vero, è vero ed è difficile perché tante volte sembra che non valga la pena rispetto a rilasciare una nuova funzionalità semplicemente. È difficile andare indietro da un product manager e dire guarda non possiamo rilasciare questa cosa perché dobbiamo prima aggiustare quello che abbiamo fatto male prima. Alle volte vale la pena fermarsi e tornare indietro. Altre volte è giusto che la nostra piccola azienda proceda per tentativi e sviluppi altre cose on top di qualcosa che magari stava in piedi barcollando perché è la cosa più giusta per il business. Quindi parlando con tante startup secondo me la creazione la proliferazione del debito tecnico dipende anche dallo stage del prodotto del team in cui siamo ed è difficile evitare certe dinamiche. In particolare secondo me si segue un po' una curva per cui finché si è in degli stati iniziali quando stai veramente costruendo il primo prototipo del tuo prodotto e c'è qualcosa da zero è quasi inevitabile accumulare parti di tecnologia che poi non saranno giuste e andranno buttate o cambiate fortemente dopo. non c'è molto che potete fare se non secondo me questo è buona parte dei consigli che cerco di dare le startup all'inizio investire di meno in codice in tecnologia anche usare strumenti no code se c'è qualcosa da validare scrivere codice è la cosa più costosa che uno può fare ogni tanto è importante però non sempre dopodiché quando un prodotto raggiunge uno stadio che è più di maturazione è stabile quello che si dice anche il product market fit c'è la possibilità di prendere quelli che sono i pilastri del prodotto e creare delle astrazioni che durano di più nel tempo cioè investire nel ridurre il debito tecnico ma comunque questo non significa che lo sforzo per ridurre il debito tecnico cambia tra le varie fasi comunque nella mia esperienza più l'azienda cresce più questo sforzo aumenta più i processi sono importanti più c'è bisogno di spendere tempo consapevole anche se poi ci saranno momenti in cui nonostante tutto il debito cresce e altri in cui il debito diminuisce diciamo che nelle fasi iniziali c'è una metafora che mi piace molto che mi ha suggerito un mio amico che il codice che dovremmo scrivere quando non siamo sicuri di quello che stiamo facendo somiglia un po' a quei nodi marinari che fa chi va in barca che devono tenere il giusto peso ma poi soprattutto devono essere molto facili da sciogliere no? perché poi non servono più e non devono essere due che dicono sta lì non ci riesci e quindi il codice deve essere un po' così magari c'è un pezzo che ha una schifezza ma è controllato sta lì e lo sai che poi quando vorrai sostituirlo con la stazione giusta non hai fatto un grande danno che è un atteggiamento molto diverso da scrivere codice buono o da scrivere codice cattivo è difficile quindi diciamo che ce l'abbiamo messa tutta ma il debito tecnico è arrivato lo stesso e quindi dobbiamo capire come come pagarlo indietro e come come migliorare la situazione per prima cosa mi chiedo perché non è scontato conta davvero non voglio dire che ci sono i no tech debt come i no vax nel senso che il debito tecnico è più o meno accettato da tutti come concetto anche astratto però può non essere chiaro soprattutto a chi magari non è un ingegnere quanto sia importante no quanto quanto si rallenta io ho la fortuna di essere amico di un ragazzo che si chiama Alex Omeyer che ha lavorato a quello che lui ha chiamato lo stato del debito tecnico nel 2021 lui ha intervistato più di 200 team in aziende che sono sia piccole start up ma anche Airbnb Microsoft quindi anche aziende grandi e ha tirato fuori un sacco di insights vi ho lasciato il link poi le slide le trovate anche un link ne ho presi due che sono mesi interessanti il 58% delle aziende non ha nessun tipo di processo per disciplinare cercare di ridurre il debito tecnico però due ingegneri su tre pensano che il loro team deliverebbe anche due volte più velocemente se questo processo ci fosse non dico se l'avessero risolto il debito tecnico se ci fosse il processo ora se vi sembra che due volte più velocemente sia tantissimo un'esagerazione pensate alla differenza se a come lavorate come deliverate codice magari nella vostra azienda rispetto a quando magari lo fate per un piccolo site project per conto vostro cioè pensate quando magari pushate su vessel a casa qualcosa di vostro e ci mette un minuto e pensate invece la differenza quando state in azienda ora è chiaro che confrontiamo le mele con le pere non puoi raggiungere la parità però quanto della differenza di velocità è dovuto a problemi che puoi risolvere che puoi sistemare quanto potresti velocizzare la creazione di nuove cose credo di io posso pensare a tante aziende dove questo due pere può facilmente diventare tre quattro cinque pere e quindi quello che ho cercato di pensare è come può come può funzionare un processo per il debito tecnico e ho cercato di intervistare anch'io altri ragazzi che conosco fatto ricerca ragionato anche su quella che è la mia esperienza e ho raccolto quelle che sono le idee che sono riuscito a mettere a fattore comune che mi sembrano più sensate e questa idea parte da una piccolissima rassonomia del debito tecnico perché secondo me non tutto il debito è creato uguale come si dice secondo me uno dei problemi per cui spesso rimaniamo impantanati è che cerchiamo di trattare tutte le situazioni problematiche allo stesso modo mentre invece il modo di affrontare i problemi cambia se parliamo di piccole parti di debito tecnico diciamo medie o grandi adesso ti dico quello che io intendo per piccolo medio o grande quindi per me il debito piccolo sono piccoli miglioramenti piccoli problemi che si possono risolvere in poche ore ok sono i classici to do che lasciamo anche nel codice no quindi qui mancano i test qui c'è il codice duplicato che basterebbe poco per toglierlo oppure abbiamo cambiato le convenzioni di naming di qualche cosa e questa parte di codice non aderisce più sono le cose veramente piccole che potrebbero stare lì indefinitamente non sono bloccanti per nessuno ok però al tempo stesso se si accumulano poi alla lunga diventano un problema mettono a repentaglio il fatto che le convenzioni non sono più convenzioni i test che erano affidabili sono sempre meno e così via qual è il modo migliore per affrontare questo piccolo debito secondo me è la cosiddetta regola dei boy scout cioè lasciare sempre il codice in una condizione migliore di quello in cui lo si è trovato quindi quando stiamo già lavorando su quella parte di codice per qualche altro motivo spendere un pezzettino di tempo in più per ripianare quel problema che ci sta perché questa cosa dovrebbe essere più efficiente rispetto a avere un lungo backlog di cose e negoziarle e pianificarle ogni volta perché nella mia esperienza andare per esempio all'inizio di uno sprint o di un ciclo a negoziare con una persona di prodotto se conviene spendere il tempo a aggiungere dei test o una piccola feature è impossibile perché sono le mele con le pere cioè sono cose inconfrontabili magari c'hai giorni di lavoro su qualcosa contro una cosa di poche ore incomprensibile e più è molto più semplice anche a livello di comunicazione allinearsi con le persone dicendo nella nostra definition of done nella nostra cultura comunque va bene mantenere un tempo leggermente più lasco che tenga in considerazione il fatto che se c'è un piccolo problema lo vado a risolvere che non significa che sono autorizzato a rifattorizzare il mondo però che ho questo margine di miglioramento che se c'è un minimo di trust di fiducia nel team non è difficile da andare a instaurare questo per il debito piccolo parliamo del debito medio che cos'è il debito medio il debito medio per me sono problemi che intanto serve un po' più di tempo per risolverli da qualche ora in realtà anche diciamo un paio di giorni ma soprattutto sono problemi su cui bisogna fare qualcosa cioè non si possono lasciare lì indefinitamente magari non vanno risolti domani però vanno in qualche modo anche schedulati priorizzati per dire potrebbe essere che c'è gente nel team che spende del tempo a fare un processo manuale di data entry o di qualcosa perché quello che un tempo è automatico in realtà non si adatta più non funziona oppure un micro servizio a queste performance che sono degradate nel tempo tutti hanno più o meno un'idea del perché ma non sono sicuri stessa cosa una pipeline su Jenkins i job sia i CD anche queste cose sono difficili da negoziare da priorizzare rispetto al lavoro normale di prodotto però sono anche più grandi quindi non possiamo farle nei tagli di tempo e dire sai questa funzionalità ci avrebbe messo mezz'ora ci ho messo due giorni perché ho anche rifattorizzare job su Jenkins non si può fare il modo migliore secondo me di affrontarlo è quello di dedicare un tempo fisso a questa chiamiamola manutenzione quindi stabilire che nel nostro team c'è non so un 20% del tempo ogni settimana sprint ciclo insomma in qualsiasi modo ciclicità voi lavoriate che è speso su questi piccoli task questi task possono essere autogenerati dal team ma può esserci anche un meccanismo di reporting per cui altre persone che non sono tecnici riportano cose piccole da fare che non vale la pena infilare nella pianificazione quella canonica ora la percentuale giusta di tempo dipende un po' dal team dipende da tantissime cose però per quello che ho visto può andare in maniera sana dal 10 al 30% se uno si trova a dover spendere più del 30% diciamo il 40-50% di manutenzione e debito tecnico costantemente probabilmente non dico che non vale la pena fare così ma ci sono dei modi migliori perché ci saranno probabilmente dei problemi più grandi che si possono mettere a fattore comune e pianificare a livello strategico e qui arriviamo al debito grande che è più o meno quello di cui stiamo parlando il debito grande che cos'è è quello secondo me a cui pensiamo tutti quando pensiamo al debito tecnico è la prima cosa quindi i mostri cioè le iniziative quelle che ci vorrebbero da qualche settimana a qualche mese per sistemare sono i grandi pezzi di codice legacy che stanno lì da una parte tutti sanno dove sono e nessuno vuole toccarli oppure c'è da migrare qualcosa da una libreria da un framework a un altro perché obsoleto non l'abbiamo mantenuto bene come abbiamo migrato noi da Angular 1 a React quando ci hanno cambiato tutto sotto i piedi oppure ti sei accorto che un servizio è stato disegnato senza tener conto della sicurezza o di performance era sbagliato talmente e vari fatto qual è il modo giusto di affrontare queste cose? anche qui qui non ci sono scorciatoie va pianificato come lavoro normale a fianco diciamo al lavoro chiamiamolo di prodotto quindi bisogna riuscire a definire quella che è l'opportunità di business e il ritorno di investimento di questo grande lavoro e negoziarlo insieme ad altre cose ed è anche sano lo voglio dire se ci pensate ora definire l'opportunità di business quando parlo con tanti ingegneri dice ma non puoi sempre trasformare tutto in quanti soldi fai se risolvi il debito tecnico è vero però nella mia esperienza non c'è bisogno anche quando si tratta di qualcosa che impatta la produttività il tempo delle persone il tempo di caricamento di qualche cosa quindi queste metriche che non sono soldi in banca ma sono comunque un buon proxy e sono comprensibili da tutti spesso sono sufficienti a far capire l'importanza di qualcosa però è importante che se si è un engineering manager o comunque il tech lead del team facciamo i nostri compiti a casa per spiegare quella che è l'opportunità cioè se il problema è che questo debito tecnico rallenta le persone quanto le rallenta quando è successo che le rallentate magari abbiamo fatto sviluppato una funzionalità il mese scorso e ci abbiamo messo quattro mesi invece ci abbiamo messo un mese spieghiamolo che è successo questo non basta chiaramente andare alzare la mano e dire c'è questa cosa eccellenta dobbiamo spendere tre mesi per rifare tutto perché mi è successo succede quindi arriviamo all'ultima parte del talk che riguarda se vogliamo proprio questo quindi come valutare gli elementi debito tecnico e capire su cosa agire prima e cosa agire dopo in maniera opportunistica su questo non mi invento niente come raramente faccio in realtà copio ma sono un grande fan del sistema che ha sviluppato Riot Games che sono i sviluppatori di League of Legends e loro valutano il debito tecnico sulla base di tre coordinate dove la prima è l'impatto l'impatto è quello di cui parlavamo prima quindi le metriche di business o i fattori di business se noi riusciamo a identificare proprio le metriche numeriche che sono impattate da questo elemento di debito ora quello che ho visto è che questa valutazione può andare in due versi si può sia sottolineare in modo negativo quello che stiamo perdendo ma alcune volte anche capire il valore che sblocchiamo l'opportunità che stiamo creando in positivo ripagando questo debito perché tante volte il debito non è qualcosa che ci sta togliendo è qualcosa che non ci consente di essere abilitati a crescere a migliorare su qualcos'altro il secondo elemento è il costo di sistemare questa situazione ora come valutare il costo e come stimarlo qui entriamo in un altro capitolo che potremmo fare un altro talk però nella maggior parte dei casi secondo me non c'è bisogno di impazzire con stime che durano tantissimo precise al millimetro e poi precise non sono mai ma se l'obiettivo è semplicemente priorizzare queste attività rispetto ad altre basta veramente t-shirt sizing se è quello che usate o gli story points comunque misure che sono 4-5 livelli dove ogni livello è il doppio di quello prima per far capire di che entità di lavoro stiamo parlando l'ultimo elemento che secondo me è il più bello perché è il meno scontato è il cosiddetto contagio cioè farsi la domanda e chiedersi ma se non agiamo su questa situazione ci rivediamo tra 3 mesi cosa è cambiato il debito è sempre lo stesso oppure è cresciuto oppure è diventato più difficile da affrontare questa domanda è potentissima perché molto spesso vi accorgete che i problemi veri di debito tecnico sono problemi che crescono nel tempo diminuiscono mai però nel migliore dei casi rimangono fermi però tanti problemi basilari diventano peggiori nel tempo e questo è un modo di creare urgency e negoziare di affrontarli che è molto efficace penso a magari una stazione sbagliata nel database che va aggiornata a livello di schema più aspettiamo più dati ci stanno più è difficile migrare e così via quindi il contagio è tanto più alto quanto il debito peggiora nel tempo quindi questo è il mio punto di vista sul debito tecnico e vi ringrazio ho considerato circa una mezz'ora per lasciare spazio a domande anche storie racconti quello che diciamo quello che avete trovate le slide da questo link factoring.link slash depth e poi in realtà trovate anche articoli altre references in fondo ho lasciato del materiale che ho usato dove due su quattro sono articoli che avevo scritto quindi li trovate anche sul sito grazie complimenti molto interessante le slide dove le troviamo che sono cose che sicuramente avrò bisogno in futuro il trovo il trovo il gialla ok e poi mi è capitato volevo farti una domanda ma poi hai risposto te che lavoravo in una startup e beh si aveva fatto il discorso quanto tempo va investito nel debito tecnico alla fine abbiamo negoziato un 15% con lo Scrum Master e lì lui essenzialmente prendeva i Fibonacci Point e da lì li estraeva faceva l'estrazione e poi generava il tempo più o meno noi ci siamo a sestare sul 20% e questo processo diciamo parallelo a quello che era lo sprint nostro normale ha creato peace of mind diciamo nel fatto di non dover più negoziare tutte queste cose una cosa che non ho detto è che secondo me aiuta ancora di più a far passare questo processo e che non deve necessariamente limitarsi secondo me a cose di pure manutenzione però anche tutti quei micro task quando qualcuno viene da te dice qui mi devi cambiare poi il testo di questa cosa o il colore del bottone capito cose che magari non sono urgentissime non le vuoi mettere in magari quello che è la cosa della settimana quindi un backlog di cose e poi le lavori in questo 20% quindi io sono un sostenitore diciamo ti passo la domanda da casa dovrebbero sentirmi così proviamo con questo che ovviamente mi aspettavo arrivassi ma ce l'aspettavamo tutti Enrico ti chiede come vendo a persone specialmente non tecniche refactoring di importanza media alta allora secondo me non come dicevo prima non ci sono grandi scorciatoie bisogna investire il tempo e l'energia per capire anche prima di tutto noi ingegneri qual è l'opportunità di fare una certa cosa perché faccio autocriti io mi sento dalla parte degli ingegneri anche se ormai non so più manager ingegner scrivo un blog però molto spesso siamo pigri cioè diciamo questa cosa non va bene fa schifo non funziona e pensiamo di cavarcela parlando con un interlocutore non tecnico spiegandogli le cose in questo modo c'è del lavoro che dobbiamo fare e molto spesso si può argomentare perché non è che quando pensiamo fa schifo lo pensiamo non ha ragion veduta è perché magari ci allenta molto in termini di produttività nelle sviluppare determinate cose oppure rende più pone ad errori lo sviluppo però sono tutti elementi che dobbiamo cercare di circostanziare quindi se è un rallentamento di produttività quando è successo quanto quanto è successo ok fammi un confronto con una cosa che invece questo debito non ce l'ha ok quanto sono andato veloce lì poi quello che ho visto è che se c'è la difficoltà di argomentare dipende anche dal livello di maturità e di trust che c'è all'interno del team no quindi se hai un interlocutore che non è tecnico ma con cui comunque c'è un rapporto sano è normale che poi tu leader tecnico ti possa prendere una certa responsabilità anche nel dire questa cosa serve che vada fatta spiegandola ma senza arrivare al nitti e gritti ok altrimenti è chiaro che serve più sforzo dipende dal team ma la risposta breve è che bisogna capire qual è l'opportunità di farlo e argomentarla bene risponderà in chat se avrà altre cose domande eccole vai dovrebbe funzionare ok vabbè grazie innanzitutto la metafora del nodo la uso sicuro è fighissima e vorrei chiedere una considerazione più una donna risposta come valuti allora noi siamo partiti dalla metafora del debito per fare una cosa più velocemente prendo una scorciatoia ma come valuti se quello che stai prendendo una scorciatoia mi spiego la maggior parte delle cose che poi vedo negli esempi ma non solo tuoi anche diciamo quando si parla di debito tecnico sono tutte cose viste a posteriori cioè nel momento in cui hai preso quelle scelte quasi mai ho visto prendere scelte subottimali cioè succede ma te lo sai faccio un esempio tra gli esempi che hai messo quando c'è automatizzare un processo manuale quando hai scelto di non automatizzarlo perché magari avevi dieci utenti certo quando tra due anni c'hai dieci milioni di utenti e non ce l'hai più a fare l'export excel per dire dopo automatizzarlo parlarne dopo due anni parlare di quella cosa come è all'epoca ho preso una scorciatoia secondo me è un po' fuorviante fuorviante non so se hai più no no e volevo in realtà c'è una vera domanda volevo un po' un confronto sono d'accordissimo con te nel senso secondo me non è utile ragionare proprio in termini analizziamo la decisione che avevo preso all'epoca ho sbagliato ho fatto bene cioè è importante che ci sia un processo per cui le decisioni vengono prese analizzando bene le carte che hai sul tavolo magari seguendo quello che è un processo per fare il design di un sistema però poi tu hai preso le decisioni la decisione nel modo migliore in cui tu potevi in quel momento sulla base degli elementi che avevi a disposizione ogni tanto sbaglierai ogni tanto magari la decisione era giusta in quel momento e non è più giusta perché sono cambiati i fattori secondo me l'unico modo sano di affrontarlo è fidarsi del fatto che se anche sbagliamo una di queste decisioni c'è un processo per cui a un certo punto recuperiamo ok quindi mettersi nella condizione per cui se si crea debito io sono confident che lo riesco a ripagare altrimenti se non c'è fiducia in questo è un po' il discorso di waterfall no contro agile cioè io cercherò istintivamente di proteggermi cercando di fare tutto bene dall'inizio perché se sbaglio poi non sono bravo a recuperare invece dobbiamo metterci con la serenità che le cose se le sbaglieremo però c'è un processo di manutenzione di quello che sia per cui piano piano recuperiamo però è vero molti errori non sono errori sono errori a posteriori appunto condivido 100% appunto per questo poi la domanda che mi viene a fare allora perché quando poi a posteriori li vediamo non li valutiamo semplicemente come delle emergenze emergenze nel senso che emergono come delle opportunità di business cioè non devo recuperare il fatto che non ho un automatismo ma adesso il mercato il contesto mi sta chiedendo questo quindi lo valuto quella cosa come una qualsiasi feature da aggiungere impatto costi benefici per scusa per non metterla per forza in una scatola che poi c'è sempre un'accessione negativa devo inventarmi il 20% eccetera finisce comunque nel product backlog e lo valuti sempre in termini di impatto guarda secondo me dipende un po' da dalla dimensione dall'urgenza anche di questo tipo di intervento quindi se parliamo di un intervento tu hai fatto l'esempio di un'automazione ok quindi qualcosa che non è necessariamente legato a un errore che qualcuno ha fatto ma è cambiato appunto il contesto la scala del business se parliamo di una situazione che non è prioritaria ci vuole poco a farla il beneficio non è chiaro qui non è esattamente come hai detto tu però allora forse il posto migliore è metterlo in manutenzione ma non perché sia manutenzione ma perché non voglio ritrovarmi nelle situazioni di dover negoziare rispetto a altre cose lo infilo lì e a un certo punto lo faccio se invece la priorità è più alta c'è un chiaro beneficio di prodotto di team di processo e quindi questo non è un task che arriva a bottom up dal team di engineering ma è una necessità che arriva dal team di supporto dal team di prodotto e non male quello passerà dai canali ufficiali dipende un po' quali sono i tuoi canali no? è che la manutenzione se vuoi sono anche quei task che arrivano come richiesta anche dal team di sviluppo mentre invece quello che fai come esempio sembra più qualcosa che magari una persona non tecnica ha alzato la mano perché potrebbe migliorare la sua vita quindi ne fai più un tema di mi riservo del tempo in cui come ingegnere posso fare delle cose senza dover chiedere a qualcuno sto estremizzando sì e no nel senso la parte di sì è perché secondo me ci sono dei task di manutenzione che in maniera naturale si prestano male ad essere messi sullo stesso piano diciamo negoziale delle parti di prodotto la parte che no perché secondo me ci sono anche tanti micro task di prodotto per esempio che nella vita normale di un prodotto vanno fatti che non perché sono di prodotto ma per semplicemente pura pragmatismo sono molto piccoli si prestano ugualmente male a essere negoziati insieme al resto e quindi vale la pena mettere diciamo in un calderone più ampio dove magari tu hai un giorno alla settimana che sai che smazzi magari trenta cose quindi secondo me sono due dimensioni qual è l'utilità da dove viene e anche la dimensione molto pragmaticamente perché scusa ti dico quest'ultima cosa perché anche il context switch tra diverse attività ha un costo ok quindi fare un task da dieci secondi non è dieci secondi quindi infilare cose piccole all'interno di batch di lavoro grandi dalla mia esperienza è più difficile rispetto a dire senti prendo questa giornata faccio tutte queste cose piccoline che non erano bloccanti posso aspettare una settimana e le concludo così grazie ciao Luca complimenti grazie niente siamo completamente allineati cioè completamente d'accordo su tutto anche a livello aziendale utilizziamo proprio queste linee guida prese dalla letteratura del resto non è che sono molto d'accordo la mia domanda era più un consiglio sulla tua esperienza tipo prendendo l'esempio del giorno settimanale dedicato a attività per togliere diciamo il debito tecnico medio ok secondo la tua esperienza è possibile far rientrare in questa giornata settimanale anche le long running cioè quindi i grandi elefanti che si vogliono iniziare a spezzare ma farlo a slot di ne so verdi 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 cioè è fattibile tutto questo oppure va sempre sconsigliato sempre per tornare al discorso del content switching perché tornerò su quell'attività dopo sette giorni non so quanto possa essere profilo guarda secondo me dipende dal tipo di attività grande ci sono delle delle attività grandi di debito che si prestano a quello che dici è come dire riesci a spezzarle in tanti deliverable ok altre che invece non riesci perché magari devi scrivere semplicemente una parte una parte grande e a quel punto secondo me spezzare in tanti momenti che magari passano settimane da l'uno all'altro prima che tu ci metti la testa e le mani è sconveniente dal punto di vista della gestione del tuo tempo diciamo che secondo me la discriminante è se tu riesci ogni settimana ogni ciclo a chiudere qualcosa cioè a togliere un pezzo deliverarlo mandarlo in produzione se invece hai aggiunto un pezzo al lavoro però ti sei tenuto la tua branch in realtà non hai finito niente e devi passare una settimana prima che ci lavori secondo me a quel punto non non è conveniente anche perché è vero che abbiamo detto prima la manutenzione è un po' una di queste cose che vedono gli ingegneri e non devono rendere conto però il fatto che stai chiudendo dei task che comunque alcuni servivano anche ad altri insomma si vede cioè puoi aggiungere un elemento di celebrazione puoi aggiungere il fatto che hai chiuso effettivamente delle cose da fare che sono anche tante perché sono piccole che aiuta molto il momentum e l'energia del team se invece hai tante settimane che passi sulla stessa cosa dove ogni settimana il progresso non si capisce bene perché non sei riuscito a chiudere qualcosa secondo me funziona meno questo secondo me è la se invece è una cosa grande ma ogni settimana riesci a deliberare un pezzettino e chiuderlo a quel punto si chiaro grazie ciao e grazie innanzitutto dicevo nel caso poi proprio di questa problematica cioè nel senso che magari io non riesco a chiuderlo questo refactoring in un tempo breve ma poi avrò a disposizione il giorno diciamo adibito a questa attività nella prossima settimana o addirittura nel prossimo sprint come abbiamo visto o ciclo come posso uscirmene magari da questa situazione soprattutto nelle parti legacy sì guarda secondo me ne esci non essendo dogmatici sul fatto che che ne so deve essere il venerdì e solo il venerdì eh ti rimane mezza giornata di lavoro o due ore di lavoro su qualcosa c'è stato un imprevisto passiamo la mano e si spende il lunedì si spende durante il martedì cioè secondo me è importante che ci fidiamo dei processi ma poi i processi non sono perfetti sono un po' la baseline e poi queste situazioni è giusto deviare e gestirle poi nel tempo normale ciao grazie bel talk stasera personalmente mi porto io alla regola del boy scout bellissima bellissima diciamo che varrebbe in tutti i campi se ciascuno la spiegasse il mondo sarebbe posto da ingegnere invece direi che è bello il processo cioè quello che secondo me un po' manca nel processo di recupero del debito è proprio la misura del debito cioè qualcosa di più quantitativo non solo dire piccolo medio grande ma in modo appunto da renderlo più evidente le persone magari non tecniche cioè se uno li presenta un grafico un numero un indice e poi forse anche una metrica a valle cioè nel senso quando uno ha risolto parte del debito vedere che effettivamente come dicevi tu la produttività sale cioè se ci fossero delle metriche forse anche le persone non tecniche sarebbero più convinte hai toccato secondo me un punto molto importante che è quello che succede dopo che hai ripagato il debito perché se tu sei bravo effettivamente a portare elementi a supporto dell'opportunità di ripagare il debito in quel momento perché poi il timing è anche importante e magari hai fatto vedere delle performance che non sono quelle che vogliamo la produttività eccetera eccetera l'argomento diventa anche per il futuro molto più forte se dopo aver ripagato il debito sei in grado di produrre a sostegno elementi che ti dicono che la stessa metrica è migliorata così e così queste sono tutte situazioni che poi aumentano il trust con la leadership con le persone di prodotto rispetto al tech lead del team e poi quello che succede è che con il tempo questo trust fa sì che se tu dici c'è da fare qualcosa c'è da fare adesso perché ti dico che i problemi sono A, B e C hai anche meno materiale da portare a supporto per consentire di avere proprio il tempo a disposizione per sistemarlo però sì assolutamente diciamo che secondo me il ruolo di chi gestisce un manager un tech lead che ha sia da una parte rapporto con i sviluppatori dall'altra con un altro manager una parte di prodotto è proprio la traduzione di queste due lingue cioè essere bravo a tradurre quello che è una necessità tecnica in un linguaggio comprensibile al business e quindi bisogna anche sapersi adattare da quello che uno vede per cui il proprio interlocutore è più ricettivo se siamo in un team che è molto data driven dove le decisioni di prodotto vengono fatte guardando i grafici cerchiamo di portare dei dati se siamo in team che sono molto sulla customer experience cerchiamo di dare customer experience in misura ultima che viene impattata da questo quindi essere bravi a portare gli elementi giusti anche grazie diciamo che consigli che un elemento che potrebbe aiutare molto sarebbe incrociare i dati tipo Dora metric con le informazioni sul proprio stack attuale per capire e pesare al meglio quali sono le pulsioni di codice che vanno a finire in height mode non per quanto riguarda il loro effort di temporale ma di importanza anche non ho capito quindi usare le Dora metric per incrociarle sulle i propri debiti tecnici che si credono per capire come metterli in priorità e dargli un peso più importante se sei in grado di farlo nel senso se ci sono degli elementi di debito che si mostrano e sono evidenti a quel livello lì di metriche che comunque sono molto di alto livello sono tipo globali chiaramente è ancora più pressante perché dice addirittura vedi impatta per dire quando il mio meantime to recover o più piuttosto che la mia quantità di delivery e così via quindi assolutamente sì però altrimenti anche se sono pezzi di debito più piccolo magari riesci a trovare una medica più specifica che giustifica il fatto di lavorarci sì grazie ciao Luca complimenti grazie allora diciamo più è una domanda ma anche una considerazione nel senso che volevo sapere se anche te come io lo faccio reputi diciamo pericoloso questo tipo di debito perché noi siamo molto spesso concentrati nel nostro team sia di sviluppo che diciamo i stakeholder che si interfacciano con il team immaginiamo diciamo il caso utopico per cui abbiamo fatto dell'ottimo codice abbiamo scritto test abbiamo preso tutte le decisioni giuste quindi c'è stata proprio questa fortuna e siamo veramente in gamba e quindi per noi non siamo non siamo a rischio di debito tecnico non può causarci del danno però c'è qualcosa diciamo che cambia il tempo e soprattutto i posti dove distribuiamo quindi diciamo dove collochiamo il nostro software faccio un esempio che non so lo store delle applicazioni un sistema operativo quindi cose che si evolvono indipendentemente dal nostro lavoro e quello per me diventa un debito tecnico che spesso tendiamo a non considerare perché non ci concentriamo a vedere oltre il nostro codice magari cambia un API che noi usavamo e non possiamo più usare quindi abbiamo un codice aggiornato con i test scritti ma il giorno dopo smette proprio di funzionare perché non riesce ad essere più distribuito che ne pensi in merito a questo? Quella è sicuramente una fonte di debito diciamo che ci sono team che ne risentono di più perché magari hanno tante integrazioni con API esterne team che ne risentono di meno perché il prodotto è abbastanza autocontenuto ti dico la mia start up One Day io lavoravo nell'ambito travel e integrava tanti API di mezzi di trasporto diversi poli, treni, bus quindi una grande fonte di debito tecnico manutenzione come la vuoi chiamare è rimanere up to date con tutti gli aggiornamenti dell'API diciamo che il tuo design del sistema deve cercare di tenere secondo me in considerazione questi touch point che possono cambiare quindi o hai creato una strazione che ti protegge almeno temporaneamente dai cambi dell'API oppure usi soltanto una porzione dell'API che è quella stabile long lived e così via ci sono probabilmente delle misure che tu puoi adottare per prevenire quello che può succedere però in definitiva sì può essere una grande fonte di debito tecnico e in parte non ci puoi neanche fare molto questa è la sensazione un'altra diciamo un'esperienza che riporta anche il fatto che ci sono delle cose che escono fuori dal radar degli ingegneri e anche del team steso ad esempio che ne so sfrutti una funzionale il tuo software fa qualche cosa che viene definito diciamo non compliant o non legale e quindi no diciamo che no c'è poco c'è poco che puoi farci nel senso ci sono dei rischi che tu puoi mettere in bilancio e puoi girarci intorno o puoi anche semplicemente alzare la mano dicendo noi stiamo facendo le cose così tenete presente che in futuro questa cosa può succedere e quindi a livello di comunicazione tra virgolette tu l'hai gestita però in alcune situazioni invece a livello software non non ci puoi fare nulla grazie fate parlare qualcun'altro dai io volevo dare non è ancora partito infatti è stupido volevo fare solo un'osservazione intanto grazie è stata veramente una bellissima presentazione io ormai mi giro tutti i conveni sul debito tecnico per capire alla fine come ripagarlo io sono un avvocato quindi quello che dirò magari non ha senso però forse potrebbe essere usato contro di voi se faccio bene il mio lavoro ecco no io ho notato una cosa interessante io ho cominciato a parlare nel mio lavoro di lavoro in software chiaramente di debito tecnico legale o privacy per indicare in realtà una serie di funzionalità che avrebbero dovuto essere sviluppate scopriamo solo oggi che sono più utili sono più compliant migliorano l'esperienza del cittadino qualunque sia la fonte vanno fatte vanno fatte perché la sanzione in quel caso è una pessima esperienza in alcuni casi una sanzione un una segnalazione un reclamo anche cose che non sfociano in soldi no e ho incontrato nell'azienda in cui lavoro un ottimo un ottimo feedback ma quando si passa alla delivery c'è un problema di cultura che secondo me non è solo legale cioè non è solo perché il task è legale cioè a nessuno va di ripagare questo debito tecnico a nessuno se è legale ancora peggio perché non se ne vede l'utilità e quindi è difficile io ci ho ci ho provato in tutti i modi però mi sembra che da questo convegno mi porto a casa che un ottimo modo per incentivare lo smaltimento del debito tecnico è quello di farlo vedere come una cosa buona come una best practice come un investimento a lungo termine cioè quello che ha detto che ha detto lui prima io ti faccio vedere i risultati di quello di quello che hai fatto hai tolto del tempo alla delivery del tuo prodotto perché è quello il problema secondo me io già ho tante cose da fare per andare in produzione domani non ho tempo né voglia per fare il tuo se invece tu fai vedere i vantaggi che nel mio caso hai portato al cittadino quante persone hanno cliccato su quel bottone no? non so se tu hai altri consigli su questo cioè è quello che ho pensato stasera guarda ne aggiungo hai detto tutte cose giuste ne aggiungo uno perché secondo me il problema della compliance legale è un problema comune a tanti requisiti non funzionali no? che è la sicurezza il logging l'osservabilità le performance tutte cose che quando andiamo a disegnare una funzionalità spesso vengono trascurate perché si pensa solamente a quello che deve fare il bottone quello che deve fare il prodotto e secondo me un modo efficace è quello di avere come sembra banale però una checklist cioè un documento che è un template che è di designer di una funzionalità che ha diverse sezioni perché tante volte quello che ho visto è che non è che le persone scientemente trascurano una cosa non ci pensano lì per lì non pensano che ah oddio per la sicurezza devo fare questo oppure per la parte legale devo fare quello cioè non sono malvagi passami la cola da figurette non lo voglio vedere anzi se pensano che come spesso succede non lavorare su questo aspetto ti potrebbe portare dei problemi anche dopo ben contenti di lavorarci dall'inizio però è utile avere come un template di design in cui c'hai pensato a questo c'hai pensato a quest'altro c'hai pensato a quest'altro e parte velocizza proprio la creazione del design di una funzionalità e poi ti mette un po' a riparo dai casi quelli proprio clatanti di nuovo io vai senti questa più che una domanda potrebbe essere magari ecco un consiglio o un suggerimento che ti chiedo facciamo un esempio e mettiamo caso entri non a lavorare per un'azienda e tu dopo un mese ti rendi conto del pesante debito tecnico che trovi all'interno del prodotto che sia sul codice diciamo che le persone che sono intorno a te ti hanno detto che gli altri sono scappati però tu hai deciso di non scappare perché non sei un codardo non sei un vigliacco e decidi di metterti alla prova trascorso un anno e dopo aver portato diciamo introdotto una nuova metodologia che altro non è che le practice diciamo standard quindi diciamo un po' quello che come si dovrebbe fare ti rendi conto di nel giro di due mesi tra cui agosto in mezzo di ferie sei riuscito a sviluppare assieme al tuo team due funzionalità nuove evolutive del prodotto nonostante questo gli unici a riconoscere il debito tecnico rimangono quelli del reparto del dev nonostante ciò nonostante quindi anche un miglioramento sotto gli occhi di tutti si continua a mettere la polvere sotto al tappeto tu che cosa faresti per essere un esempio totalmente immaginario era molto dettagliato quindi io so che era totalmente immaginario quindi l'hai pensata proprio bene secondo me l'hai proprio immaginata bene sicuro la costa in mezzo no bellissimo allora che ti posso dire io mi chiederei se avete realizzato due funzionalità o due deliverable che sono andati bene quindi che hanno funzionato hanno portato risultato perché non c'è un certo tipo di riconoscimento o va da sé che si crea più fiducia per affrontare altre cose non è una domanda retorica nel senso perché spesso magari c'è come un contasto di valori cioè quello che tu o io pensiamo che è un valore è un grande risultato per un altro non è un grande risultato perché perché magari lui ha in testa delle metriche che sono diverse oppure la definizione di grande risultato che non è quella e queste situazioni in realtà che capisco che sono frustranti però sono anche utili perché ti fanno capire come sintonizzarti un po' con il tuo interlocutore come parlare la sua lingua quello che anche dicevamo quindi io cercherei di capire anche con dei meeting anche con dei one to one qual è la percezione del valore delle cose che voi fate e colmare la distanza che mi sembra che ci sia tra quello che tu pensi che sia giusto fare e quello che il business pensa che sia giusto fare la maggior parte dei problemi come si dice stanno dietro la tastiera nel senso sono di comunicazione spesso magari sono anche cose che tu non sai del business che priorità che i dev non capiscono perché le persone di business sono un sommario a farle capire quindi è questo secondo me il tipo di investimento che oppure scappi come gli altri secondo me non è un tema cioè tu hai detto che è un tema di gli acchi cotardi però nel senso tu hai un raggio d'azione no no è chiaro però hai una tua responsabilità poi è diciamo sta a te prego a questo punto diciamo la nostra considerazione vai dipende se la fai al miglior se no rimane un suo rilogno tramite appunto sulla coda di quello che diceva lui cioè un danno del debito tecnico non è solamente cioè non è diretto verso il prodotto ma c'è un second step cioè nel senso che il debito tecnico può causare la diciamo la fuga del team no perché rimane praticamente io penso che ognuno di noi piace lavorare in un ambiente che sia non dico virtuoso ma quantomeno dignitoso no e quando lavori in qualche cosa dove magari apri il cassetto ti aspetti un cacciavite e trovi invece che ne so uno straccio e allora lavori male sì è un'ottima considerazione e questo tipicamente è un elemento molto potente da portare sul tavolo cioè se tu se un manager o chiunque ha le prove che parte del turn over è causata dalla mancanza di soddisfazione per l'ambiente di sviluppo la produttività della singola persona e questo lo puoi capire in molti modi cioè puoi fare delle exit interview le persone che lasciano insomma anche dei survey quello che in generale se tu sei per dire un manager hai i tuoi one to one con i tuoi report delle situazioni che conosci che poi magari sfociano nel fatto che la persona se ne va questi sono costi reali perché il costo del turn over è una cosa mortale per le aziende maggior ragione in queste condizioni è sempre più difficile assumere ingegneri e così via quindi è sicuramente un ottimo un ottimo punto grazie il flemme non è arrivato comunque deluso quasi a questo punto non mi fate non mi fate parlare ragazzi il flemme non arriva mi esprimo allora esatto 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 ah dici non è attaccato al mirofolo ok allora voglio ritornare sull'esempio che hai fatto prima dicevi interfacciavamo molto con i PA di terze parti e quindi quello è un caso tipico tu hai interfacci con un servizio terzo quindi collabori o perché sei un aggregatore o per qualche motivo con un'altra realtà o un'altra azienda che evolve per per conto suo quindi tu a un certo punto ti ritrovi ok quelli hanno aggiornato le API noi dobbiamo aggiornare il nostro modulo che si integra ok se il tuo business è integrarti con le API con un servizio terzo nel nel pianificare la feature mi interrogo in servizio X devi anche pianificare che se quel servizio X quell'integrazione avrà un ciclo di vita durante il ciclo di vita ci saranno anche gli aggiornamenti fanno parte del core business se quando arrivano questi aggiornamenti vengono definiti a debito tecnico e non vengono inclusi in uno stream diciamo del lavoro principale certo c'è il senso c'è un termine cioè se io lo chiamerei debito di pianificazione sono d'accordo infatti secondo me questa non è da flame sono 100% d'accordo ok a posto ci sono usciti deluso anche qui mi dispiace no infatti ti dico l'abbiamo imparato sulla nostra pelle nel senso nel nostro caso all'inizio avevamo questo debito di pianificazione come l'hai chiamato nel senso integriamo tante API non ci rendiamo conto che serve della manutenzione poi abbiamo cominciato a questi diciamo costi operativi di manutenzione a pianificarli nel nel piano dello sviluppo nel senso che magari un'integrazione di un nuovo API mettevamo tra virgolette a budget tre settimane per completarla più due giorni al mese che sappiamo che l'avremmo dovuti togliere altre cose perché magari non succede magari succede devi o aggiornare i dati perché c'è una parte dei dati nel DB che devi salvare oppure aggiornare degli end point e quindi lo fai per un API lo fai per un API sai che ci sta un tot di effort al mese che devi spendere sul lavoro sull'API questa è una considerazione magari quando sei una scala piccola cioè quello che voglio dire non è solo utile per il debito tra virgolette è utile perché intanto essere una scala piccola ti aiuta solo nella pianificazione quando questi effort si sommano diventano magari il lavoro di una persona di mezza persona ti aiutano a strutturare il team perché ti fanno rendere conto che magari puoi assumere una persona che è integrations engineer della tua azienda e lavori con una persona full time lo fai in maniera più efficiente non lo so però più cose riesci a portare a galla a livello esplicito di come spendi il tempo più è un vantaggio da tutti i punti di vista dicevo che quello per esempio il cambiamento di un'API esterna non lo definirei tanto un debito tecnico perché infiscia completamente la funzionalità magari si deprecano una certa API sì secondo me ci sono diverse sfumature ci può essere una cosa che non funziona più per niente una cosa che funziona male perché magari sta usando una versione vecchia che sta ancora lì ma non è più supportata ci possono essere tanti casi però sì non è prettamente un debito tecnico probabilmente veramente c'è le stesse grandi speranze no 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 altre domande c'è una da casa vai poi trovi differenza tra il debito tecnico lato API e lato implementativo la prima crea problemi di consumo del codice e il secondo di comprensione dei dettagli implementativi ma non necessariamente del consumo l'API è lato nostro cioè lato team tecnico che le produce per altri o lato integrazione di API esterne da quello che interpreto interne ok quindi API che il team sviluppa API di qualsiasi funzione quindi di firma ok design quindi diciamo il fatto che la firma è il design la firma dell'API vada vada aggiornata vada vada evoluta per rispecchiare magari o requisiti o gli internals del sistema probabilmente no nel senso che se la domanda è la differenza a livello di come gestire la situazione secondo me i fattori sono sempre qual è l'impatto qual è il costo qual è il beneficio che ottengo se ci lavoro e in definitiva quali sono i miei diciamo i miei interlocutori quindi lo tratterei lo tratterei allo stesso modo probabilmente molto più leggera molto più semplice abbiamo detto un sacco di cose una cosa che sicuramente è emersa è che se io scrivo del codice e lo lascio lì il tempo è un accumulatore di debito tecnico anche se rimane lì nessuno scrive del codice intorno e personalmente sono di quelli che dopo una settimana riapre quel file e dice chi ha scritto questa roba si distinguere il diciamo lo ritengo forse uno small diciamo nelle tre categorie che hai fatto dove fermarsi al tanto il giorno dopo comunque l'avrei riscritto diversamente al è un debito tecnico che devo tenere in conto e non farmi montare dall'ego del potevo adesso la devo riscrivere meglio questo ovviamente team più piccoli anche progetti personali dove mi trovo tante volte scrivere di getto e poi no vabbè prima di andare avanti devo riscrivere tutta questa parte perché fa schifo ho parlato a luglio sul progetto side project che ho fatto e al momento sta a fare perché prima di fare la nuova funzionalità certo mettere le mani su quella roba boh ma sai dipende dipende sempre qual è l'obiettivo per cui tu hai scritto il codice no quando tu parli di side project spesso si dice le persone sono perfezioniste quando per dire spendono due mesi a capire lo stack tecnologico del proprio blog come ho fatto io all'inizio quando ho cercato per fare la newsletter è perché secondo me c'è un obiettivo anche più o meno implicito che è quello di imparare anche cose no è quello di non è solo questo è un prodotto ci devo fare i soldi faccio per dire ma è anche voglio imparare una tecnologia voglio esplorare delle cose e quindi quella riscrittura magari non è fine a se stessa no è al fine di fare una cosa meglio per te stesso se sei in un team di un'azienda è chiaro che questa situazione è più è diversa no e conosco e secondo me dobbiamo essere bravi come ingegneri a riconoscere l'istinto di fare una cosa bene separando la situazione in cui vogliamo rifarlo bene perché è anche un'opportunità di crescita personale ed è una soddisfazione personale o da quando invece rifarlo bene porta effettivamente il valore del diciamo al business secondo me una domanda semplice che ti puoi fare in questi casi è se non lo faccio un po' il discorso del contagio di prima se non lo faccio lo lascio così e passa un mese che succede? se la risposta è niente probabilmente lo puoi lasciare così se succede qualcosa allora vai avanti nei ragionamenti grazie altra domanda? se la chiude? grazie Luca è stato un talk interessantissimo grazie a voi grazie a voi tantissimo faccio così vengo questo sono 8.30 quindi preciso preciso sullo schedule poco frame ci aspettavamo qualcosa di più infatti però un sacco di partecipazione perché come dicevamo all'inizio è il tema che tocca a tutti e se non vi ha toccato non vi siete accorti di qualcosa quindi esatto e se no continueremo sui nostri canali ti iscriveremo assolutamente per avere delle risposte o creare altre domande e vi ringrazio a tutti per la partecipazione ci vediamo il terzo mercoledì del mese di ottobre alle 19 19.15 più o meno e adesso andiamo a pranzo lì ci sono i stickers per chi sta in presenza e per chi sta a casa si attacca grazie Luca veramente grazie mille grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti